Sì, è chiaro che con questa squadra qua che gioca un campionato diverso dal nostro, perché per forza, centimetri di esperienza, tutti i giocatori di A1, diventa molto difficile giocare, anche se giochiamo 100 partite e perdiamo 99 probabilmente contro di loro, soprattutto in questa fase, in più mettiamo un Ross che non era certo al 100%, forse neanche al 50%, c'è molto condizionato, il che non toglie il fatto che la loro buona partenza, devo dire, nel tiro da tre punti, è sicuramente figlia del loro talento e della loro organizzazione e anche figlia di noi che siamo sempre un po' attendisti, questo non va bene. In queste partite dove onestamente non abbiamo nulla da perdere, dobbiamo avere un po' più di faccia tosta e rischiare qualcosa di più a livello difensivo, non l'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto dopo 7-8 minuti, però sono divari importanti da recuperare, anche quando siamo arrivati a meno 5, onestamente abbiamo anche speso tanto, poi basta un fischio di qua o di là, un tiro libero che va che non va, ti può spezzare l'incantesimo. Sono contento appunto sicuramente della reazione, sono contento che tutti hanno dato un contributo, dobbiamo però diventare grandi un po' prima e non essere così scolastici.